buongiorno da obiettivo news oggi 3 marzo e santa cune gonda e della giornata mondiale dell'udito che sottolinea l'importanza di integrare le cure per l'orecchio e l'udito nell'ambito delle cure di base come componente essenziale della prestazione sanitaria universale i messaggi chiave della giornata mondiale dell'udito 2023 sono i problemi all'orecchio e all'udito che sono tra i problemi più comuni che si incontrano nella comunità oltre il 60 per cento di questi può essere identificato affrontato a livello di cure di base l'integrazione delle cure per l'orecchio e l'udito nei servizi di assistenza di base è possibile attraverso la formazione e rafforzamento delle competenze a questo livello tale integrazione giova le persone e aiuta i paesi a procedere verso la meta di una copertura sanitaria universale grazie a tutti grazie a tutti